Noi di Papparole Professionisti crediamo nello scambio di competenze e beneficio del mestiere che svolgiamo. Ecco perché abbiamo creato la Papp Academy, una serie di video tutorial in cui condividere le nostre conoscenze e le nostre competenze con voi. Che tu sia un traduttore professionista o ti accinga a svolgere questo mestiere, prima o poi ti verrà chiesto di svolgere un'asseverazione. Affinché tu non cada dal pero quando però ti verrà fatta questa richiesta, abbiamo deciso di dedicare un video a questo argomento. In questo tutorial quindi imparerai che cos'è un'asseverazione, come dove si svolge e di quali strumenti hai bisogno per fare un'asseverazione di qualità. Partiamo però con lo sbrogliare un po' la matassa terminologica. Infatti soprattutto all'inizio della carriera da traduttore si viene bombardati da una serie di termini, di tecnicismi, tra i quali è anche difficile orientarsi. Noi vogliamo darti una buona notizia. La traduzione asseverata, la traduzione giurata e l'asseverazione sono di fatto la stessa cosa. O meglio, la traduzione asseverata o giurata che dir si voglia sono il documento che si ottiene dopo che il traduttore ha svolto l'asseverazione, cioè ha recitato un giuramento in tribunale davanti a un pubblico ufficiale. Prima di entrare nel dettaglio di questa pratica però vogliamo fare alcune precitazioni per noi fondamentali. Innanzitutto devi sapere che una traduzione asseverata ti costerà di più rispetto a una traduzione standard, sia in termini temporali che economici. In termini temporali perché ci impiegherai più tempo e dovrai fare delle ricerche terminologiche specifiche e accurate, dovrai recarti di persone in tribunale e in termini economici beh perché il tempo è denaro come si dice no? Inoltre devi sapere, devi tenere anzi ben a mente il fatto che un traduttore che assevera si assume una responsabilità sancita dal codice penale, precisamente dall'articolo 483 del codice penale dove è prevista una sanzione dai due mesi ai tre anni di reclusione per chi assevera, quindi giura, una traduzione falsa o errata. Per questo è fondamentale sapere e rendersi conto che una asseverazione è una cosa seria e soprattutto che non va fatta nei ritagli di tempo, in velocità o all'inizio di carriera per farsi strada. Inoltre è vivamente sconsigliato tradurre verso una lingua che non sia la propria lingua madre. Se nei casi ordinari magari lo fai e ti fai aiutare da un revisore, in questo caso te lo sconsigliamo proprio per quello che abbiamo appena detto relativo al codice penale. Ora entriamo nel dettaglio. Come sia assevera? Beh, una volta che avrai fatto le tue ricerche terminologiche avrai tradotto accuratamente il testo, dovrai stampare la traduzione e il testo di partenza oppure prendere il testo di partenza in originale, se ti è possibile, e recarti con questi documenti assieme alla tua carta d'identità in tribunale dove appunto presterai un giuramento leggendo una formula che ti verrà data dal pubblico ufficiale che poi autentificherà la tua firma che apporrai sul verbale appunto guardando la tua carta d'identità. La formula che giurerai dirà che hai tradotto bene e fedelmente il testo e che sei conscio della responsabilità che ti assumi secondo appunto l'articolo 483 del codice penale. Inoltre dovrai portare con te anche delle marche da bollo che verranno infatti apposte al fascicolo che verrà prodotto contestualmente in tribunale con il testo originale, la traduzione, il testo originale si intende il testo di partenza, poi la traduzione e il verbale da te firmato e firmato anche dal pubblico ufficiale. Per quanto riguarda le marche da bollo però non c'è una regola precisa in Italia per conteggiarle. Ogni tribunale utilizza diciamo un metodo diverso. Per farti capire c'è chi conta sia le parole del testo di partenza e di quello tradotto, chi solo della traduzione, chi conta una marca da bollo ogni 100 parole e chi una ogni 4, 2 o 4 pagine per dire. Quindi è fondamentale telefonare prima in tribunale per chiedere esattamente in quel tribunale di quella città in cui tu devi andare come conteggiano le marche da bollo, così arriverai con il numero esatto e non dovrai ad esempio fare due volte la fila, che è una cosa fondamentale, perdere il meno tempo possibile, no? Siamo d'accordo? Inoltre se è la prima volta che ti recchi in quel tribunale o se non ci vai da tanto tempo per fare un'asseverazione, ti consigliamo anche di chiedere preventivamente gli orari e le tempistiche con cui svolgono le asseverazioni. Ad esempio ci sono dei tribunali, normalmente ecco le asseverazioni vengono sempre svolte in mattinata in un ufficio apposito del tribunale, solitamente entro l'una. Però ci sono ad esempio degli uffici che le fanno solo su appuntamento, altri non serve l'appuntamento ma lo fanno solo in certi giorni della settimana, altri ancora permettono al traduttore di asseverare un massimo di 4 testi a giornata. Sono tutte informazioni fondamentali da sapere prima anche per dare i raguagli del caso correttamente al cliente. Queste informazioni le trovi molto spesso già nei siti dei tribunali, ad esempio il tribunale di Roma ha pubblicato una sezione con queste informazioni, altri invece non le hanno pubblicate online e per questo ti consigliamo vivamente di telefonare. Infine ti diamo anche un piccolo consiglio pratico del mestiere. È una buona pratica scrivere alla fine una piccola dicitura in cui si specifica di quante pagine di testo originale e di testo tradotto consta il documento in totale, fino a dove si è tradotto se ad esempio il testo non è stato tradotto tutto completamente, serviva solo tradurre una parte e alla fine mettere la propria firma. Ad esempio scrivere il documento è composto da 5 pagine di testo di partenza in francese, 4 pagine in traduzione italiana, è stato tradotto fino a qui, firma e timbro se ce l'hai del traduttore. Infine sarebbe l'ideale poter siglare con le proprie iniziali e magari anche col proprio timbro ogni piega del fascicolo, diciamo la parte che si forma tra le due pagine graffettate, tra ogni piega a porre la propria sigla. Tutte queste sono piccole precauzioni anche per evitare magari dei cambiamenti anche dovuti a manomissioni successive all'asseverazione e quindi per tutelarsi. Io direi che con questo possiamo concludere, avete acquisito delle importanti conoscenze sull'asseverazione e vi chiedo quindi di mettere un like a questo video se vi è piaciuto, vi ringrazio per essere arrivati fino qui e vi consiglio di seguire i nostri social e di iscrivervi alla nostra newsletter e se avete altri argomenti che vi possono interessare chiedeteceli, magari ci scrivete nei commenti o in privato e a proposito qui sotto vi lasciamo anche il link del testo di PAP con tutte le informazioni in più e sull'asseverazione. iscriviti al canale